Versilesi stregati dal gioco d'azzardo. Nel solo 2016, nei sette comuni, sono stati giocati quasi 167 milioni di euro, nei 1169 slot, VLT e videolotteri. La metà di questa cifra è stata spesa nel solo comune di Camaiore. Segueviereggio con 38 milioni, Massarosa con 14,5 milioni, Seravezza con oltre 13 milioni, Pietrasanta con 12, Forte con 3,5 milioni e Stassema con 559 mila euro. Questi i dati dell'indagine condotta dal gruppo Espresso. A finire nella gabbia del gioco d'azzardo patologico in Versilia sono sempre più persone ed è per questo che il Servizio di Pendenze del CERT in via della Gronda Viareggio, che intende potenziare le iniziative di prevenzione e di intervento, ha convocato oggi un tavolo di discussione sul tema. Presenti il Vescovo di Lucca Castellani, il Comandante delle Fiamme Gialle Filippo Capineri, medici, assistenti sociali e addetti ai lavori. Il mondo delle dipendenze cambia e in quest'ultima fase si sta facciando sempre più prepotentemente il tema del gioco d'azzardo patologico. Quindi come abbiamo già fatto sull'alcol nel tempo con il Comitato Non La Bevo e con altre iniziative, parte oggi un tavolo che ha l'ambizione di coinvolgere più professionisti possibili, più persone possibili, più istituzioni possibili per cominciare a aiutare le persone a rendersi conto, uno, che l'azzardo è un problema e due, che si può superare con una serie di iniziative di vario tipo. Dalla sensibilizzazione nelle scuole, intanto stiamo facendo moltissimi interventi con insegnanti e ragazzi, a interventi invece dell'equip del gioco d'azzardo, c'è un gruppo settimanale per giocatori d'azzardo, un gruppo psicoeducativo che proprio in questi giorni sta in essere sostanzialmente e molte altre iniziative. L'obiettivo di questo tavolo è che sia il più ampio possibile e che ci permetta di organizzare il maggior numero di attività per far sì che davvero si faccia luce su questo fenomeno che sta crescendo in maniera vertiginosa purtroppo anche in Bersilia.